benvenuti al tg del turismo ecco hai detto lui tg del turismo perché perché dovete sapere che cosa si fa nei weekend e nei giorni normali in giro per l'italia dai adesso ve lo raccontiamo parliamo di artigianato ma artigianato ad alto livello si chiama artigianato e palazzo e si svolge ormai da oltre 20 anni a firenze nel giardino di palazzo corsini questa iniziativa è particolare ogni edizione ospita circa 90 artigiani italiani e stranieri che sono selezionati apposta dagli organizzatori nelle giornate della manifestazione questi maestri sono a disposizione dei visitatori spiegano i segreti dei loro antichi mestieri e tutto succede in piccole botteghe perfettamente ricostruite per l'occasione e i prodotti naturalmente sono tantissimi perché nel corso degli anni ad artigianato e palazzo sono stati rappresentati 149 differenti antichi mestieri dal ricamo all'arredamento alla ceramica alla pelletteria fino appunto ai gioielli l'appuntamento è tra poche settimane dal 12 al 15 maggio segnare interessante interessante però se siete da quelle parti e non potete non perdere anzi non potete perdere il cinquantesimo cinquantesimo dico bene anniversario della grande alluvione che avvenne a firenze il 4 novembre 1966 e devastò firenze c'erano i ragazzi che andavano a raccogliere i libri i vecchi antichi libri che appunto erano stati alluvionati e quindi questo questo incontro è importantissimo questo momento importantissimo l'artigianato a palazzo infatti avrà come tema anche nei prodotti proposti quello dell'acqua come forza distruttrice ma come anche importantissimo elemento della vita allora mi raccomando firenze 2016.it informazione www firenze 2016 in cifre.it